Ciao ragazze e ciao ragazzi, oggi nuovo video Avon, luce, troppa luce, commerciali, roba Questa volta video collaborazione con Teresa ce n'è per tutti i mesi del mese di agosto Agosto 2016 Un bacio super mega, bacione, abbracione a Teresa che è tanto paziente con me Tanto caruccia, tanto brava, sapete che l'adoro, adoro il suo modo di parlare Quindi andate a iscriversi al suo... Andate a iscriversi al suo canale Comunque, ce n'è per tutti i mesi, bando alle cianci e cominciamo Le sono scritte qua, quindi mi girerò per guardarle Prima domanda, canzone preferita? Tra l'altro me la sono preparata Non so perché sto mese di agosto ho in testa sta canzone Che neanche ho riascoltato Però so settimane che la canto in testa Non so neanche se riesco a pronunciare qualche in tedesco Der Tans der Schatten Theater of Tragedy si chiama la canzone Del suo corpo conosco solo sta canzone Ma ce l'ho in testa Non so neanche se riesco a pronunciare qualche in tedesco E non so neanche se riesco a pronunciare qualche in tedesco Non so neanche se riesco a pronunciare qualche in tedesco E non ne ho la più minima idea Profumo preferito, ho usato tantissimo infatti lo sto affinando Questo qua è della Naturals con mela verde e che c'era? no, fiori di melo fresca, buona, mi è piaciuta tantissimo poi film o telefilm preferito film ho visto Contagius mi pare sia chiamato quello con Schwarzenegger dei zombie, però è un film drammatico, non è un horror veramente, veramente bello, da vedere poi accessorio preferito me lo sono scordata aspettate eccoci, qui sono tornata di solito non faccio stacchi su questo video ma sono una cicciona non mi andava di far vedere sto culo gigante che passava qui vabbè, vado alle ciance, vi devo far vedere questo, perché è fantastico il mio accessorio preferito è un regalo di compleanno che ho ricevuto dalla mia amica Marianna Bob Eat Bob Eat cioè, è fantastico tu giochi e ti dice quello che devi fare, una specie di Simon aspetta come si accende non me lo ricordo più comunque era molto carino diceva, gira, morbide, fai stupendo scusate che devo andare per il gatto faccio un altro stanco a riechime scusatemi 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 allora accessorio ve l'ho detto ed è un fantastico cibo preferito io continuo con i pomodori perché pomodori a gogo è stata e pomodori ci metterà anche il cocomero va? cocomero smalto questo questo è stupendo l'ho usato solo sui piedi perché sui miei mani questo mese non ho messo niente per andare al mare lago roba non mi va tanto si è scarcata tutto stupendo è durato più di un mese me lo sono dovuto lavare da solo super mega raffinato elegante coprente bellissimo parola più che cazzo non so figuraccia già andrà al mare e basta mansa mare lago quello che sia cosa più bella e cosa più brutta ve le dico insieme allora facciamo personale allora personale cosa più bella il mio compleanno ho fatto 32 anni porco giudato come passa il tempo e il mio ragazzo per il compleanno mi ha regalato mirabilandia quindi siamo partiti tre giorni che bello che figata però è stato quasi un rischio che non si potesse fare perché il giorno dopo il mio compleanno mia madre ha avuto un ictus lo dico legalmente così perché è andata bene mi madre sta bene dopo una decina di giorni in ospedale l'hanno ricchiappata per i capelli mi madre parla cammina miracolo da medicina fantastica gli effetti collaterali che gli trema tutta la parte destra che gli sarà bloccata e gli gira la testa e si lamenta però un bucio di culo è enorme e sono contentissima di questo perché lì per lì è stata tosta comunque quindi cosa bella cosa brutta tutte queste cose qui fantastiche prodotto preferito prodotto preferito è questa mascara si mascara questa mattita della neve cosmetics la manga brown per le rosce mi piace tantissimo ha una parte roscia più scura e roscia più chiara quindi a seconda di quanto sono roscia più carotosa ve lo gestisco molto bene mi piace tantissimo anche se come avete visto uso anche quella bionda dell'avono la blonde mi piace prodotto avono preferito io non ci avevo fatto caso ma sono mesi e mesi che giro e mi rigiro quando mi trucco io prendo sempre sto blush dalla gold trend il colore flora che è un colore rosa pescato matt stupendo durevole bello mi piace da impazzire poi la foto del mese ve la vado a prendere perché è fantastica sicuramente qualcuno l'ha già vista perché l'ho messa su instagram il mio puzzolone quant'è elegante è proprio un signorino questo puzzolo mamma mia che eleganza ragazzi aneddoto avon oddio aneddoto oddio nonostante sia agosto nonostante cioè il giorno in cui dovevo fare l'ordine mi madre ha preso un ictus io sono riuscita comunque a simulare qualche prodottino mi sa che il video ancora non l'ho messo di campagna 11 le clienti sono state gentilissime che mi hanno aspettato grazie 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 e è andato tutto bene grazie anche al nuovo servizio amo non sono riuscita a fare questa cosa senza pagare un botto di spese di spedizione per un espresso com'è questo mese oddio caotico un agosto strano visto quello che è successo mi sono invecchiata mi madri momenti mare però ci siamo richiappati fa caldo il viaggio del viaggio poi è stupendo bellissimo bellissimo mi è piaciuto Forlì e Ravenna perché sono piatte comunque bellissime veramente bello sono mangiata bene Mirabilende è stupenda ma ad agosto è assurdo cioè per fare un gioco alla fine da un'ora altri giochi non ho fatti perché mi sono piccata sotto tipo il Divertical no il Divertical l'ho fatto lo Speed e il Cadoon non io ho potuto far e mi sono così sbatocchiata a parte che sono piena di lividi che mi fa male lasciati in una maniera assurda sono tipo zop sono vecchia sono vecchia per far queste cose non le posso più far anche il mio ragazzo sta così sono due vecchie di merda comunque a me mi pare di aver detto tutto vi ringrazio per aver visto il video spero come al solito sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici ancora un super 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 mega bacio abbraccione a Teresa che è fantastica e ci vediamo al prossimo video un bacio ciao